Grazie a tutti. Scusate, ho la tosse, sono stata troppo nel bosco. Vediamo se riusciamo a riprenderci noi. Allora, buonasera. Buonasera, scusate, ho un po' di mal di gola per cui è il bosco, è un po' di freddo. A me mi sta partendo un polmone. Prima l'influenza, poi il raffreddore, adesso la tosse. Si trova di tutto nel bosco, anche gli indiani qua. Anche gli indiani, eh? Sì, sì, sì. La stiamo andando? Veramente non lo so io, è che qua non riesco neanche a camminare i cuori. Aspetta. Via. Questa è. Questa è. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.